Insieme a Schlein, Conte e Speranza, è il libro di Speranza, ma può essere il quadro anche del futuro politico italiano? Ah, io mi occupo del passato. E in passato c'è stato un governo giallorosso che appunto... No, perché è passato più passato. Più passato ancora, lei dice che questo passato prossimo è meglio dimenticarlo. No, no, sono spettatori, quindi gli spettatori non partecipano allo spettacolo. Ma però lo spettatore è magari un'istantanea su quella che è stata una fotografia del recente passato, potrebbe magari essere riedita, potrebbe averlo, no? Sì, ha senso che le opposizioni collabore, una cosa piena di buonsenso. Ma stanno collaborando ultimamente queste due opposizioni? Questa è una domanda difficile, non ne lo so dire.